Buonasera, nei miei quattro anni in Israele e Palestina, la nostra esperienza è stata quella di ascoltare, intervistare e alcune di queste interviste davvero erano terribili, raccapriccianti come quella di Teghesti. Oggi non voglio parlarvi di queste, ma voglio parlare invece per queste persone, far sì che il loro grido venga ascoltato. Tre o quattro mesi fa ho ricevuto una telefonata dagli Stati Uniti, una donna eritrea disperata, Rahel. Suo fratello era tenuto prigioniero nel Sinai, in Egitto, e a lei era stato chiesto di pagare 36 mila dollari per il riscatto, perché appunto il fratello venisse liberato. È stata costretta ad ascoltare mentre il fratello veniva torturato, mentre gridava e chiedeva aiuto, chiedeva misericordia. E Rahel era disperata, non sapeva cosa fare, perché la sua famiglia era molto molto povera, quindi ha tentato di raccogliere i 36 mila dollari per poter far uscire suo fratello, per poter liberare il fratello da quella situazione. Perché mi ha telefonato Rahel? Mi ha chiamato perché voleva che potessimo raccogliere questi soldi anche chiedendo le lemosina per le strade, nelle chiese. E la famiglia ha venduto tutto quello che aveva per poter appunto raccogliere questi soldi, per poter salvare il figlio. E voleva che io inviassi questo denaro agli israeliani. E poi che questo denaro arrivasse appunto al Sinai, ai trafficanti di esseri umani. La sua telefonata mi ha messo in una posizione estremamente difficile e non sapevo assolutamente cosa fare. E ho pregato Dio che mi desse la forza, perché non avevo una risposta. Da un lato, se io avessi fatto questa cosa, forse questo ragazzo di 17 anni avrebbe potuto essere salvato. Ma d'altro canto, come potevo collaborare con i trafficanti di esseri umani in questa follia di atrocità? Come potevo dar loro questa somma di denaro? Dei poveri, a partire da quello che non avevano, erano riusciti a raccogliere questo denaro per salvare il figlio. Era una situazione davvero straziante per me. E quindi non sapevo cosa dire. Ma ho dovuto dirle. Non posso farlo. Non posso collaborare con queste persone. E ho pensato che forse doveva trovare un altro modo o inviare questi soldi direttamente. Dopo una settimana, dopo alcuni giorni, mi ha ritelefonato. Il fratello, di 17 anni, era stato ucciso. E non ho potuto dormire per parecchi giorni. E continuavo a chiedermi. Che cosa avrebbe fatto il buon pastore? Non lo so. Non so se devo sentirmi colpevole. Non so. Non ho una risposta. In Israele vi sono 53.000 richiedenti asilo. La maggior parte di queste persone provengono dall'Eritrea, dal Sudan, dall'Etiopia. E vi sono molti rifugiati. Queste persone hanno fatto il loro viaggio fino ad Israele attraverso il Sinai. E la maggior parte di queste persone sono passate da un trafficante all'altro. E sono finite nei campi di tortura. E le loro famiglie devono raccogliere migliaia di dollari, di euro, per poter salvare i loro figli. Nel mio lavoro come volontaria con i medici per i diritti umani in Israele, io ho fatto delle interviste con i superstiti dei trafficanti di esseri umani. E ho incontrato persone che avevano delle bruciature con plastica bollente. E ho incontrato persone che avevano ustioni da sostanze corrosive. Avevano ferite profonde causate da catene. Ho incontrato persone che erano diventate cieche perché per sei, otto mesi erano stati tenuti bendati. E quando li portavano fuori al sole avevano perso la vista. E voglio raccontarvi un'altra storia. La cosa peggiore è quando la loro mente e la loro anima è ferita. Soltanto Dio può guarirli, può dare loro la forza per vedere il futuro. Perché per dare spazio alla persona umana. E questo è quello che io prego. Quindi queste persone possono guardare al futuro, a un futuro diverso, migliore. Possono tornare a essere persone umane. Io devo ascoltare, ascoltare, ascoltare. Un giorno all'interno di Physicians for Human Rights, i medici per i diritti umani in Israele, ho incontrato una signora che veniva dall'Eritrea con la sua amica migliore, che era l'amica d'infanzia. E non appena sono arrivate in Sudan, sono state rapite. Sono state rapite, sono state portate nel Sinai in maniera disumana, non davano loro acqua. Se davano acqua, era contaminata con la benzina. E quindi non ne chiedevano più. E non appena sono arrivate nel Sinai, nei campi di tortura, sono state torturate. Torturate, sottoposte a scosse elettriche, sospese dal soffitto. Abusate a livello sessuale. Incatenate per sei mesi. L'amica di Wayne non è riuscita a sopravvivere ed è morta. Sapete che cosa hanno fatto? Hanno lasciato la sua migliore amica per tre giorni incatenata a lei, mentre era già morta. E lei gridava e diceva, uccidetemi, in modo che io non posso più vivere senza di lei. Uccidete anche me. E che cosa hanno fatto? Le hanno tirato del diesel e le hanno bruciato i capelli. Fortunata? Forse è la grazia di Dio. E' sopravvissuta. E' sopravvissuta. E alla fine i genitori hanno pagato i 30.000 ed è stata portata fino al confine di Israele. E ormai era un'ombra di se stessa. E quando si è vista allo specchio per la prima volta all'ospedale di Beersheba non riconosceva più se stessa. e diceva, mi davo dei pizzicotti per capire se ero morta. Oh, effettivamente ero ancora viva. Io sono africana. Sono nata in Africa. Lavoro in Sudan, in Etiopia, in Kenya, in Uganda e sono passata attraverso la guerra, la carestia, le difficoltà ma agli orrori gli orrori che ho ascoltato in Israele dai superstiti, dai campi di tortura queste cose non si vedono neanche nei film dell'horror ma queste donne questi ragazzi sono coraggiosi raccontano migliaia di volte raccontano delle loro ferite ai giornalisti a chiunque prometta loro che possa fermare quello che sta accadendo loro parlano al mondo ma il mondo fin qui è rimasto in silenzio e al mondo non interessa perché sono poveri africani e mentre sto parlando vi sono persone nei campi di tortura vi sono ancora nei campi di tortura persone che muoiono soffrono e gridano e nessuno ascolta le loro grida perché sono illegali anche quelli che non lo sono comunque non hanno nessuna possibilità di far ascoltare la loro storia come diceva anche la nostra sorella da Malta non hanno diritti in Israele dopo tali problemi dopo tali torture dopo lo shock che hanno vissuto non hanno alcun diritto li chiamano infiltrati non hanno alcuno status vanno da una prigione all'altra da una prigione all'altra e poi hanno settimane e settimane di sciopero della fame e molte dimostrazioni ma nessuno e nessuno che li ascolti invece vengono messi in prigione ma sono forti e combattono per i loro diritti non voglio qui entrare nel merito del perché sono scappati dai loro paesi voi di questo sapete più di quanto non ne sappia io sapete più di me i motivi di tutto questo ma io vorrei che preghiamo per loro in modo che la loro forza e la loro fede in Dio e nella persona umana sia sempre forte sapete per le strade di Tel Aviv quando cammino e quando lavoro come volontaria per il centro di sviluppo dei rifugiati africani incontro le donne con i bambini che tengono i bambini stretti al petto e mi dicono Soraziza sai ti ricordi io non lo volevo questo bambino non volevo andare avanti con la gravidanza perché era troppo doloroso per me andare avanti con il bambino senza un padre e che mi aveva aveva abusato di me io ero bendata e ora invece lui ha il ragione per cui io vivo ed ora questo per me questo mi ha fatto riconciliare con il mio passato e mi dà forza mi dà la forza di vedere un futuro luminoso come donne come missionaria dopo Dio sono loro la mia forza e questa è la mia forza ed è per questo che oggi sono qui per parlarvi del loro coraggio e della loro fede quando sono venuta ma prima di arrivare qui un psicologo sono andato in ospedale a vedere una donna che stava morendo il psicologo era da quella parte e io ero da questa parte e io cantavo nella nostra lingua e a un certo punto ho visto la sua mano che indicava verso l'alto verso Dio e lei diceva non la sentivo bene Sinai Sinai diceva e io mi sono occhinata e lei stava borbottando qualcosa e diceva così tante cose non vengono raccontate e ha ragione noi non sapremo mai non sapremo mai che cosa è successo a questi fratelli e a queste sorelle nostre nel Sinai come comboniana io sono una suora comboniana il mio fondatore ha combattuto contro la schiavitù contro la schiavitù e io voglio dire che se lui ha combattuto contro la schiavitù e ha mostrato la sua forza al mondo questo deve terminare questa è una nuova forma di schiavitù e io voglio terminare con la grazia di Dio e la preghiera di tutti noi voglio mettere fine a tutto questo e vi prego non rimanete in silenzio grazie grazie grazie